Francesco Bozzi, docente dell'Università degli Studi di Milano, oggi è nel castello di Somma Lombardo per relazionare su uno degli ultimi discendenti del Marchese del Castello. Di che cosa si tratta e che tipo di evento oggi andrà a raccontare? Sì, oggi teniamo una conferenza su Gabriel Casati, che è stato uno dei primi ministri dell'istruzione dell'Italia Postunitaria, quindi siamo durante il risorgimento, nonché il promulgatore della prima legge sull'istruzione obbligatoria, che è stato chiaramente un momento nodale nella storia del Paese. Io introdurrò, sarò uno di coloro che introducono i lavori e poi dopo di me parleranno, e saranno le vere e proprie relazioni, Alessandro Tripepi e Matteo Casati, che si occupano di tematiche molto più specifiche di Gabriel Casati, vale a dire Gabriel Casati come politico, potestà di Milano durante le cinque giornate, e Gabriel Casati come ministro e appunto promotore di questo importante momento della storia italiana. Perché è importante che il territorio, la città di Somma Lombardo, conosca in qualche modo le sue origini anche attraverso la storia del castello? Ma è importante per quanto riguarda Gabriel Casati, perché Gabriel Casati sarebbe stato legato ai Visconti, in quanto sua nipote Anna è stata la nonna di Gabriel Visconti, vale a dire l'ultimo marchese di San Vito e insomma del castello di Somma, quindi è un ulteriore mattone molto importante, molto prestigioso, che valorizza la storia di Somma Lombardo a livello locale e la mette in prospettiva con una storia più ampia, quantomeno per quanto riguarda il territorio nazionale, ed è quindi un pezzo di storia che è importante conoscere su più livelli. Dicono che ci sono anche le scuole oggi, quindi questo messaggio andrà tramandato alle giovani menti, quelle che un domani potranno raccontare la storia di Somma Lombardo? Esatto, la presenza delle scuole oggi è veramente un grande piacere ed è una gioia poter vedere che anche i più giovani si accostino alla storia, non tanto e non solo come insieme di eventi da imparare a memoria, perché la storia non è solo questo, la storia è soprattutto un grimaldello, una lente di ingrandimento per una migliore comprensione del presente e della realtà in cui si vive.